La casa del sport è un grande sogno che si è diventata una realtà oggi. Il sogno è creare un'unica piattaforma per sport, una compagnia di sport. La casa del sport è una grande iniziativa. Penso che il sport è stato un panorama di questa situazione sport. La casa del sport è diventata un centro per tutte le organizzazioni che hanno un interesse in promozione sport. La casa del sport è fantastico. Mi piace la prima. È molto moderno, veloce, brillante. Ma il concetto è bello. Per mettere tutte le organizzazioni insieme. La missione è abbastanza clara. La missione è di essere riconosciata come un hub. Non solo una compagnia, solo un hub. Faizi è una delle forze principali. E' sicuramente che a livello dell'EU, e all'interno delle federazioni, che sport ha una comunità. Grazie a tutti i partenari della casa del sport che hanno fatto questo progetto comune possibile. Abbiamo lavorato molto, molto hard per i ultimi due anni, per assicurare che la casa del sport diventino una realtà. E credo che è con grande piacere che continueremo per assicurare che il sport in Europa diventino in modo in cui dovrebbe essere. a presto. I would like to render a speciale word of appreciation and recognition to Alberto, who has worked tirelessly to ensure that this idea would be transformed into reality. a presto. A presto.